Scongiurare il rischio paralisi del pronto soccorso per le gravi carenze di organico e evitare attese in barella anche nei reparti. La carenza di organico potrebbe mettere a serio rischio l'emergenza estiva all'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Il ricorso massiccio a turni di lavoro straordinario non può più essere praticato. Bisogna garantire più seduti operatori e non solo in chirurgia per abbattere le lunghe liste d'attesa. Sono solo alcune delle emergenze portate stamani sul tavolo del direttore generale del Ruggi, il dottor Vincenzo Vigiani, dai sindacati di categoria. In particolare la carenza degli operatori sociosanitari a pesare, soprattutto dopo che in tanti hanno deciso di rifiutare i turni straordinari per l'enorme mole di lavoro. Ne occorrerebbero almeno 300 per garantire un regolare svolgimento delle mansioni a cui si aggiunge l'assenza almeno di una ventina di anestesisti e di quattro ortopedici. Carenze che fanno saltare le sedute di sala operatoria soprattutto in chirurgia. Lunga la lista di richieste avanzate al direttore Vigiani nel corso di un lungo incontro in direzione generale, tutte indirizzate a garantire un'adeguata assistenza ai pazienti. Il problema è sicuramente in questo momento, in particolare a Ruggi, ma come è stato sottolineato anche negli altri plessi dell'azienda, la priorità assoluta, non che nelle altre figure professionali non ci sia un'emergenza, ma la priorità assoluta è legata alla carenza di operatori sociosanitari. Effettivamente questo è un problema drammatico, drammatico per l'eseguità delle risorse che abbiamo a disposizione perché i meccanismi di quiescenza hanno falcidiato negli anni passati questa categoria professionale in particolare. Oggi però noi abbiamo la possibilità, proprio perché con i decreti 29 e 30 della struttura commissariale, abbiamo la possibilità di reclutare un certo numero di personale. Ed è quello che proveremo a fare nei prossimi giorni. Certamente non risolveremo tutti i problemi, ma sono fiducioso nell'auspicare che i problemi in particolare del pronto soccorso e del lobby possano trovare una buona percentuale di risoluzione per quanto riguarda la questione degli OSS in tempi anche abbastanza rapidi. Spero che per luglio sia possibile acquisire quelle unità di OSS che servono per garantire la regolarità dello svolgimento delle attività nel pronto soccorso e nel lobby e spero anche in qualche altra unità come qualche sala operatore, come nel blocco operatorio e in altre realtà particolarmente critiche da questo punto di vista. Direttore, risolvibile invece la questione legata all'assenza di anestesisti che non permette le sale operatori, soprattutto in chirurgia, tutti i giorni, ma allo stesso tempo si garantisce in attività di intramenia attività operatoria. Sembra quasi un paradosso. Ci sono liste di attesa, i pazienti non possono essere operati, però poi se si fa a pagamento è possibile farlo. Vede, questo è vero in parte. Allora, che ci sia un problema di carenza di anestesisti è notorio e dappertutto, ma non solo a livello regionale, a livello locale, ma anche a livello nazionale. Non a caso, appunto, in questa prima tranche di sblocco parziale del turnover, una serie di indicazioni che abbiamo dato, che abbiamo indicato alla regione sono relativi proprio al reclutamento di quattro anestesisti. Che ci sia carenza è dato dal fatto oggettivo che si fa un uso smodato, direi, di autoconvenzionamento per gli anestesisti, ma perché altrimenti, come dire, veramente, ci sarebbe da sbloccare tutta l'attività. Però attenzione, l'autoconvenzionamento che, ripeto, sottolineo, veramente assume, e dal punto di vista delle ore, e dal punto di vista finanziario, dimensioni notevoli e non per colpa degli anestesisti, perché, come dire, c'è un ricorso veramente notevole, è esclusivamente per garantire l'attività istituzionale, non per garantire l'attività intramenia. Grazie a tutti.